ciao a tutti benvenuti e bentornati in un nuovo video oggi finalmente è il momento di provare insieme il puff devo ancora stendere uno strato di color corrector quello che io in genere per chi segue i miei video sa che io utilizzo il color corrector arancione e poi vado a mettere il correttore sopra con un leggerissimo strato di correttore e proverò in un occhio in un occhio stenderò la cipria con questo e nell'altro fisserò il correttore con la cipria col pennello che uso solitamente così per vedere la differenza dico io l'ho già provato e ho visto che funziona funzionale cioè levica molto bene la parte rispetto al pennello stende la cipria in modo più omogenea sarà forse il materiale con cui è fatto questa specie di vellutino che c'è con cui è morbido proprio questo materiale fa in modo da applicare la cipria in modo omogenea ecco quindi adesso vado a mettere il color corrector ormai è un residuato bellico ormai è sempre questo residuato bellico eppure diviso in più parti si e nel frattempo credo il correttore sientro con più delle luettere sistemiamo tutto necessità sì in questa giornata così plena di sole che ci sta avvicinando al natale siamo intorno all'undici dicembre più o meno dal colore del cielo ho terminato il correttore di nix e quindi questo momento sto utilizzando ecco questo che aveva già aperto quindi voglio determinarlo mi trovo bene era il mio preferito prima di provare il correttore di nix poi quello ha preso il posto ma ormai che ha aperto lo terminiamo grazie a tutti e quindi adesso applichiamo la cipria in quest'occhio col puff e nell'altro col pennello proprio verrà poter vedere le differenze trovo il pannello più che trovare le differenze e trova il peccolo non so se riuscite a notare questo che è l'occhio del puff questo che diciamo la zona in cui ho utilizzato il puff ho steso la cipria ho applicato la cipria con il puff è molto più levigata rispetto a questo a questa zona dove ho applicato la cipria col pennello diciamo io utilizzo questo pennellino perché è quello che tra quelle che io ho la stende in modo più omogeneo e nonostante questo diciamo mi sono sempre trovata bene questo pennello la differenza si nota posso applicarlo un pochino di più ma non è consigliabile visto che io comunque la mia zona è segnata ecco quindi la differenza è notevole io ve lo consiglio ve li consiglio per la mia esperienza ovviamente io li ho acquistati su aliexpress ed era una confezione da 6 non mi ricordo benissimo il prezzo ma circa 2 euro e 65 2 euro e qualcosa comunque e poi vi lascio giù in descrizione vi lascio il link e il prezzo ve lo lascio nel video così se volete dare un'occhiata o ne volete approfittare però li poter trovare ovunque praticamente online ormai ormai li vendono quasi li vendono tutti i siti quindi io li ho presi lì fatemi sapere se anche voi li avete acquistati utilizzati se anche voi siete trovati bene fatemi sapere già nei commenti se vi è piaciuto il video lasciate un like se vi va iscrivetevi al canale noi ci vediamo in un prossimo video vi saluto e vi auguro una buona giornata piena di sole non così ma così piena di sole ciao